... che si romperà un altro, tipo questo, stecca del dondolo, prevenire è meglio che curare. Quella ho fatto io, una borsa l'ho fatta io e non c'è io. Aspetta che te blocco. La misura, allora questa abbiamo già preventivamente fatto il gancio. Allora, presumibilmente dovrebbe essere in questa misura qua, presumibilmente, mentre quindi prendiamo la sega, se qua deve stare riccio, lo tagliamo di boccola, vai. Ma che cosa stai creando? Sto a fare una stappa per il dondolo. Ora adesso, fa a fare dei in tre minuti. Sto alla sega a te, perché sta a metto? E' passato il primo minuto, Gero, c'è altri due minuti. Ok. Rattora, 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 rattora. È un mago che sei che. È mo? È mo? Guarda che ti fa il numero. Non me lo arricci. Ok, questo, pure. un minuto e mezzo una mossa così è fatto e in due minuti gli ha fatto un c'è manco fosse le quattro salti in padella in tre minuti e gara ha fatto la sua nuova per il dondolo in due minuti due minuti netti perché notiamo che è rovinata questa effettivamente è rovinata effettivamente è rischioso potrebbe esserci stato il rischio vi dico come avrei fatto io l'avrei lasciata così per il resto della vita fino a te non si sarebbe proprio ruta avrei fatto un dondolo nuovo e invece lui no ma attenzione forse forse ha sbagliato le misure non ho sbagliato le misure giralo ma se si sgancia qua non c'è una protezione niente come si fa sganciare oh raga in due minuti e 48 secondi ha fatto pure il montaggio un applauso un applauso è un piacere un applauso grazie a tutti Grazie mille